I just want you La conduttrice tornerà finalmente in tv con una sua trasmissione, dopo l'addio a Forum nel 2013. In tutti questi anni Rita dalla Chiesa si è dedicata alla radio, ed è stata ospite di diverse trasmissioni televisive come opinionista. Nell'estate del 2015 ha anche condotto un programma su Rai 1 con Fabrizio Frizzi, titolato La posta del cuore. Intervistata da TVBlog, la conduttrice ha risposto ad alcune domande del giornalista, esprimendosi anche sulla nuova edizione del Grande Fratello XV. Essendo ancora segreto il nome del prossimo conduttore del reality, il giornalista ha chiesto a Rita dalla Chiesa, se ha mai pensato di condurre il padre di tutti i reality. La conduttrice ha risposto così potrebbe dunque essere un'esperienza divertente e da provare. Rita dalla Chiesa si era già cimentata con un programma simile, Il Ballo delle Debuttanti, in onda nel 2008 su Canale 5. Il programma però era più un talent show. Rita dalla Chiesa questa sera su Rete 4 conieri Oggi Italiani a Rita dalla Chiesa, dunque piacerebbe cimentarsi in un programma diverso dalle sue corde, come potrebbe essere il Grande Fratello XV. La conduttrice ammette tuttavia che ognuno ha le sue caratteristiche, e di conseguenza programmi più adatti e programmi meno. Nel frattempo Rita è pronta a tornare in tv questa sera conieri Oggi Italiani. La prima puntata del programma, avrà come tema centrale quello dell'amore. Ospiti del programma di vita dalla Chiesa questa sera saranno Silvana Giacobini, la Marchesa Daniela del Sissecco, Cecilia Rodriguez, Patrizia De Blanc, Lori del Santo, Corinne Cleri, Erminia Manfredi e Giulia Dell'Ellis. La conduttrice ha specificato che gli ospiti non saranno presenti tutti nello stesso momento ma verranno divisi in blocchi, in base all'argomento trattato in quel momento. Concluderà la puntata a Maurizio Costanzo che in pochi minuti racconterà un suo ricordo, e un suo pensiero dedicato all'argomento della puntata. Per ora le puntate previste del programma saranno 8. Anche se non ce ne dovessero essere altre in futuro, Rita dalla Chiesa, ha comunque spiegato di essere contenta così. Il fatto di essere tornata a Mediaset, e su Rete4 per lei è già tanto, in quanto ogni volta che è tornata a Mediaset nella sua carriera, ha ricominciato su Rete4.